Facciamo un gesto concreto insieme. E' questo lo slogan della 26esima giornata della colletta alimentare che si terrà sabato 26 di novembre. Oggi ci troviamo nel magazzino di via fermo del Banco Alimentare di Pesaro, Banco Alimentare che ha presentato questo appuntamento che come ogni anno si tiene nell'ultimo sabato di novembre, un appuntamento in cui i cittadini possono recarsi in uno dei 350 supermercati della Regione Marche, nei quali possono acquistare dei cibi che verranno poi consegnati ai tantissimi volontari presenti all'esterno delle strutture, dallo scatolame, ai pacchi di pasta, agli alimenti per l'infanzia, all'olio, tante possibilità con un piccolo gesto di fare tanto per le migliaia di enti caritatevoli che avranno, che beneficeranno di questi doni. Una giornata della colletta alimentare che cresce di ogni anno, come ci spiega Angela Tringali della Fondazione Banco Alimentare. Anche quest'anno abbiamo un parterre di più di 4.000 volontari in tutte le marche. Questo è sempre frutto di immense collaborazioni, alcune reiterate negli anni, anche perché quest'anno è la 26esima edizione della colletta alimentare. 350 supermercati nel territorio marchigiano e adesso poi vado a qualche titolo invece per la provincia di Pesaro. Sono 150 supermercati di questo territorio, di tutta la provincia di Pesaro che saranno coinvolti e anche qui tantissimi volontari. E così mi racconto magari anche qualche collaborazione in essere, anche cose nuove. Per esempio parto dai Lions Club. I Lions da sempre collaborano con la colletta alimentare, ma quest'anno c'è stata una scelta proprio a monte. Tutta l'organizzazione Lions in Italia ha scelto di aderire alla colletta alimentare. Questo è stato importantissimo perché anche presenze più piccole di tutto il territorio marchigiano hanno dato la disponibilità per fare la colletta. Quindi quest'anno in più parti del territorio marchigiano ci sarà proprio questa collaborazione con i Lions. Un'altra cosa molto interessante di quest'anno è anche la collaborazione con l'Associazione Ucraini. Questa è stata bella per noi perché è stato proprio un segnale, proprio una legge quasi di vita, che quando uno riceve un dono e un'accoglienza la prima cosa che gli viene da fare anche dopo è restituirla. Per cui loro per primi che sono nati proprio come ODV per aiutare i bisogni che ci sono, si sono dati da fare, hanno creato due gruppi che ci daranno una mano durante la colletta alimentare. Poi altre particolarità di quest'anno, la presenza della squadra Well che verrà a fare un momento, un turno di volontariato allo spazio Conad. Conad e ancora il rugby che da sempre è al fianco del Banco Alimentare che andrà a fare un momento di turno al Conad 900. E ancora c'è da dire che quest'anno si sono stati sorpresi e onorati dall'interesse del Vescovo che ci ha chiesto di iniziare il turno, un turno in un supermercato, anche questo è il Conad 900 alle otto e mezza, di stare un'oretta con i volontari e incontrare la gente. Poi vedremo anche la presenza anche qui da tantissimi anni dell'esercito. L'esercito ci aiuta perché voi sapete che raccogliendo tante derrate alimentari, poi alla fine bisogna portarle tutte nel nostro magazzino e l'esercito ci mette a disposizione uomini e mezzi per poter andare a recuperare il cibo nell'entroterra pesarese e riportarlo appunto al magazzino. Quindi è proprio uno sforzo comune, tantissime aziende ci aiutano mettendo a disposizione i mezzi e quindi veramente è un'operazione corale.